Dal 24 febbraio 2020 è iniziata a Perito la distribuzione di Paese Mio, il periodico di informazione dell'Associazione Proloco Perito. Sarà un veicolo di informazioni per tenere aggiornati i cittadini sulle iniziative e sui progetti dell'Associazione stessa. A tal proposito abbiamo avuto ai nostri microfoni il Presidente dell'Associazione Proloco Perito, Antonello Marcelli. Ci approfittiamo di questa bella giornata anche per presentare Paese Mio, il periodico dell'Associazione Proloco Perito. Sarà un mezzo di informazione sia sulle attività della nostra associazione, sia per riscoprire tradizioni, ricette e tanti aneddoti legati al nostro Paese. Una pagina anche per l'amministrazione comunale, per la parrocchia, per comunicare i propri eventi. E speriamo di aver fatto una cosa gradita a tutti. Quindi notizie prettamente sul Comune di Perito, i vari giornalisti, chi sono i protagonisti giornalisti che andranno a scrivere su questo periodo? Per questo primo numero siamo stati noi della Proloco, in più con il Sindaco e il Parroco che ci hanno offerto un loro contributo scritto. Per il futuro chiunque vorrà potrà scrivere sul nostro giornale. Quindi è un giornale che è aperto a tutti, cittadini, residenti e non, che quindi sarà un qualcosa in più che la Proloco cerca di offrire al Paese.